L'Italia avvince il campeonato europeo! Sì, anche qui c'è un cuore pesarese perché la nostra allenatrice è Sara Braida, l'abbiamo conosciuta proprio a Pesaro quando lei era una giocatrice dell'Olimpia Basket e siamo diventate amiche. In quel momento usciva dopo il primo anno di esperienza a Mary Ann Dillier che anche lei ha vissuto qua in città e che si trasferiva e quindi avevamo bisogno di un altro coach e abbiamo chiesto a lei e ha dato la sua disponibilità ed è con noi da ben nove anni, dal 2012, quindi ha visto proprio l'evoluzione di una squadra che prima non sapeva giocare a palacanessa, diciamo la verità. Noi avevamo trovato due ragazze che veramente militavano in squadre udenti perché ricordiamo che noi essendo l'unica squadra sorde le ragazze devono per forza giocare con le udenti, bisogna essere insomma abbastanza forti per poterlo fare, quindi all'inizio non riuscivamo a trovarle ma c'erano, erano nascoste e le abbiamo scovate piano piano. All'inizio la squadra aveva atlete che provenivano da altri sport, abbiamo avuto gente che giocava a ping pong, a calcetto, che faceva atletica, avevano solo voglia di fare sport. E dopo grazie a Sara c'è stato proprio un cammino anche tecnico oltre che caratteriale che ha portato davvero una squadra vera. Diciamo che dal 2016 con la prima medaglia a Salonico, agli europei di Salonico c'è stata la svolta e da lì abbiamo cominciato un altro tipo di cammino. Ecco, quindi siete arrivate a Pescara con la convinzione di dire ok proviamo a vincere? Veramente ci hanno messo molta pressione addosso, anche la federazione, la FSI a cui noi siamo affiliate e grazie alla quale facciamo questa attività aveva sparso la voce a Pescara che noi fossimo la squadra favorita. Questa cosa ci aveva messo un po' di ansia addosso soprattutto alle ragazze perché è vero che nelle ultime competizioni erano sempre andate sul podio però tra vincere la medaglia di bronzo e la medaglia d'oro sai bene che mancano due partite cioè bisogna vincere la semifinale che non avevamo mai vinto, eravamo sempre usciti in semifinale e poi bisogna vincere la finale che è lo scoglio più duro perché a quel punto sai già di avere una medaglia al collo, oro o argento e c'è il rischio anche di non entrare con la stessa rabbia di quando sai che se perdi sei eliminato quindi è stato molto duro il primo tempo anche perché sugli spalti c'erano tutte le famiglie, i genitori, gli amici visto che giocavamo in Italia e loro erano emozionatissime quindi dopo negli spogliatoi l'allenatrice ha dato una bella strigliata e si è riusciti a tirar fuori il carattere che serviva per portarla a casa. La vostra è una carriera professionale spesa interamente nel giornalismo, nello sport e in particolare anche nel basket qual è stata all'epoca la molla che vi ha fatto unire lo sport a una disabilità che presumo conoscevate marginalmente? Sì, conoscendo l'SD Sordi Pesaro appunto la Carloncini ci disse che non esisteva una squadra di basket in Italia femminile, maschile c'era e quindi abbiamo deciso di costruirla a due anni prima precedenti ai mondiali di Palermo 2011. Un mondo nuovo che ho imparato a conoscere e a vivere piano piano, la federazione Sport Sordi mi ha dato questo ruolo e appunto appena ho creato la squadra insieme a Betta e niente, il mio ruolo è quello di manager cioè di trovare giocatrici, di creare la parte logistica dei viaggi, dei trasferte, dei sponsor e tutta la parte che è fuori dal campo, mentre Elisabetta si occupa della comunicazione a inizio era dura mandare comunicati e farseli pubblicare, ora invece ci cercano per intervistare ragazze per raccontare la nostra impresa. Grazie